e dell'uomo saggio mutare posizione secondo il bisogno ecco secondo quei ispire il signore vorrei mutare posizione innestarmi cioè nella preghiera che lo spirito santo ha donato a questa comunità di credenti il signore ci ha detto e per l'ultimo di spogliarci dell'uomo vecchio e di vestirci dell'uomo nuovo ed è quello che è più necessario proprio oggi quasi al termine del nostro corso spogliarci dell'uomo vecchio spogliarci delle opere della carne e delle opere del maligno perché purtroppo ci siamo rivestiti senza saperlo di opere del maligno perché abbiamo dato l'argo alle opere della carne e alle opere del mondo e allora dobbiamo spogliarci spogliarci ed essere nudi e rivestirci dell'uomo nuovo Cristo Gesù creato secondo giustizia e verità e questo rivestimento è opera di vestirci dei pensieri di Cristo dei sentimenti di Cristo ma è nostra la volontà di Cristo di prendere anche nel nostro corpo l'essere di Cristo perché dobbiamo rassomigliare a Cristo essere trasformati in Lui chiediamo pertanto allo spirito di operare in noi questa trasformazione in Cristo Gesù chiediamo che ci vengano dati i pensieri di Gesù diventando uomini spirituali da uomini carnali o uomini razionali che noi siamo uomini spirituali l'uomo può vivere nel corpo può vivere nella ragione può vivere nello spirito puntiamo a vivere nello spirito nella parte superiore nostra ed è per questo che dobbiamo avere gli occhi di Cristo il pensiero di Cristo giudicare come Cristo vedere come Cristo è necessaria cioè questa operazione che lo spirito santo opera in noi con la santa unizione si muge di Cristo da fronte perché noi pensiamo come Lui e col pensiero di Cristo vediamo le cose camminiamo camminiamo nel mondo sapendo tutto giudicando tutto senza essere giudicati da nessuno nella sua potenza carnale mondana poliabolica chiediamo allo spirito di avere i sentimenti di Cristo rivestirci di umiltà e di obbedienza umiliò se stesso facendo il suo obbediente fino alla morte e alla morte di croce per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome e per questo mi piego ogni ginocchio in cieli e in terra in ogni luogo avere i sentimenti profondi di Cristo umili e umili di cuore imparate da me che sono umili e umili di cuore ed è per questo che il Signore deve darsi la sua opzione fondamentale che è la volontà del Padre questo è il mio cibo fare la volontà di colui che mi ha mandato Gesù si cibava di volontà di Dio si cibava cioè di Dio suo Padre quello che piace a Lui io faccio sempre e attraverso l'opzione fondamentale di Cristo innestato in noi dello Spirito se noi piacciamo a Dio siamo sempre in linea con Dio camminiamo sempre secondo Dio facciamo sempre la volontà di Dio questo significa rivestirsi di Cristo e rivestire anche di Cristo il nostro cuore con la compassione perché noi abbiamo bisogno di questo sentimento profondo di Cristo in relazione agli altri chiediamo chiediamo allo Spirito di darci con l'umiltà con l'obbedienza con l'attesione alla volontà di Dio questa compassione che si apre agli altri e al ministero a cui tutti noi siamo chiamati lo Spirito ancora opera questa conformazione corporea non sapete che siamo il corpo di Cristo parliamo del corpo così fisico di Cristo parliamo del corpo mistico di Cristo del corpo eucalistico di Cristo ma qui intende parlare del corpo fisico di Cristo ci deve essere una certa conformità col corpo fisico di Cristo nato da Maria nella purezza assoluta dei costumi nella interveratezza nella mortificazione nel digiuno essere cioè visibile manifesto manifestazione di Cristo in mezzo agli uomini in modo che gli uomini vedano in noi quasi l'immagine di Cristo una trasformazione quasi corporea in Cristo Signore nella purezza del risuardo nella santità della vita nella mortificazione della carne avere il nostro corpo simile al tuo ecco queste opere delle sfide conformità a Cristo nella mente attraverso l'unzione nella volontà e del cuore attraverso la opzione fondamentale di Cristo innestata dall'astorzione fondamentale e la conformità a Cristo Signore alla viti simistica come diceva San Maria di e la ritorno di Dio di Sarene questo è il rivestimento di Cristo rivestirci di Cristo nella nostra vita personale per piacere a Lui ed essere l'icona di Cristo che cammina in mente gli uomini e allora che la parola di Cristo può essere accettata dagli uomini l'azione di Cristo può essere accettata dagli uomini perché vedere in noi il Cristo che cammina e siccome noi dobbiamo parlare adesso dell'attività di Cristo in noi come liberatore degli uomini ecco che dobbiamo avere la fisionomia di Cristo per avere l'operazione di Cristo essere uomini liberi essere uomini liberi come Cristo uomini di amore figli del Padre punti di Spirito Santo Cristo sulla terra altro Cristo per operare come Cristo per vivere Cristo per operare come Cristo e liberare gli uomini liberare gli uomini cioè rendere gli uomini spogliandoli delle l'avecce contro la Cristo Signore ed è di questo che noi vogliamo parlare in un dono di bascarico prima che in un dono diciamo di priera che porteremo per essere pronti ad operare per essere pronti a compiere il nostro ministero cioè la pratica della liberazione non possiamo immettersi nella pratica della liberazione se non siamo liberi come Cristo comporni a Cristo se non alitiamo Cristo se il nostro profumo non è il profumo di Cristo chiaro e allora per questa premessa per agganciarci alla preghiera di oggi noi cominciamo a parlare della pratica della liberazione ma sia del nostro ministero di liberazione tutto il mondo è schiavo anche i nostri tutti c'è tanto il sentito e l'esperienza che ciò insegna ma il Signore ciò è posto qui per essere liberi mando liberare liberi e liberati il tema della nostra conversazione è appunto la pratica della liberazione la premessa come avete detto essere Gesù perché essere Gesù perché dobbiamo pur convincerci che l'unico liberatore è Cristo il quale opera nel dito dello spirito nella forza dello spirito santo o come dice l'angelo nella potenza della risposta il nostro ministero ha vivendo un ministero di misericordia un ministero di potenza ossia veicolare nel nostro ministero il cuore di Cristo e la potenza di Cristo attraverso la compassione la misericordia e attraverso quel potere che ci viene dallo spirito del Signore il quale ci ha dato potere di calcestare i potenti di calcestare il scorpione e di calcestare solo ogni potenza del medico grande umilità venti molto fuori per poter assorbire da Cristo la misericordia e per poter assorbire l'affettività la potenza però la prima idea facciamo applausi la prima idea in questo ministero è che è Cristo che libera noi siamo noi che liberiamo di quindi l'importanza della unione personale con Cristo e siccome il nostro ministero è il ministero eccletiale che esercita cioè nella chiesa da dare bene perché è un ministero che venga compiuto dal corpo cristiano dovrei spiegarlo meglio cioè tutti quelli che debbano avere giocamento dal nostro ministero che sono stati colpiti in qualsiasi maniera dal maligno o indirettamente attraverso il potenziamento delle opere della carne attraverso il potenziamento degli atteggiamenti mondani dei sentimenti mondani o direttamente attraverso l'incluso che esercita con la tentazione con l'oppressione con la persecuzione con le rastrazione e poi ancora più brevemente con il maleficio l'infestazione l'ossessione la possessione ecco che noi dobbiamo prepararci a questo ministero insieme cioè è la chiesa che espunge questa infezione che espunge i nemici ecco perché il ministero di liberazione è un ministero che si compie almeno i nostri gruppi a chiedere è la chiesa che interviene per espungere dalla chiesa che siamo tutti noi i nemici la veste che noi diamo al ministero è comunitaria in questo ci distinguiamo noi maghi dei fattucieri che operano isolatamente noi non operiamo isolatamente operiamo insieme perché operiamo come chiesa dove sono due o tre riuniti nel mio nome io sono in mezzo all'ora però una piccola chiesa composta di tre quattro persone che operano insieme ed è Cristo presente dove sono riuniti nel suo nome per cui verificare la presenza di Cristo prima di operare perché è Cristo nella sua chiesa che è il gruppo orante che opera la guarigione su questo noi ci teniamo molto ed è questa è la caratteristica del ministero di liberazione in Italia lo ho dato dagli ordini vaticani lo ho dato da tutti quelli da una stafora un attimo l'oggio su questo metodo benvenzato perché è il metodo migliore è il più sicuro è il più ecceziale per cui bando ai liberi battitori oppure a quelli che operano isolatamente questo non vieta al sacerdote al medico a un altro fratello che in un momento di necessità preghi per il fratello per la visione fratello però sempre in comunione con la comunità a cui sartiene col gruppo a cui sartiene è sempre in linea eccezionale ma nella linea ordinaria è sempre il gruppo orante il gruppo di liberazione che rappresenta la chiesa in cui è presente Cristo che espulga da sé tutte le infezioni purifica il suo corpo per la chiesa purifica il gruppo purifica le persone succede tutte le infezioni delle persone che vengono per chiedere la luce e lo spirito vedendo in Cristo Signore questa è una prima idea la prima appartiene non è più notando prima di iniziare la pratica e allora Cristo lui libera Cristo libera nella chiesa il gruppo rappresenta e chiesa prima per tanti di operare come conserenza gli operatori debbano verificare la presenza operante di Cristo in mezzo a loro non mettersi ad operare se prima non c'è la verifica della presenza di Cristo perché potrebbero radunarsi 4-5 e operare per conto proprio senza la presenza di Cristo verificare che Cristo sia presente ecco che nella preghiera iniziale nella preghiera di verifica bisogna assodare la presenza di Cristo e l'operazione del Santo Spirito in mezzo a noi nella comunione fraterna nella purezza della vita in modo che Cristo sia presente e possa operare con il suo Cristo chiaro tutto questo secondo prenotando questo riguardo il gruppo orante come procedere preparare preparare il paziente diciamo come prepararlo innanzitutto avere le idee diare bisogna eliminare ad ogni costo il peccato perché non si può operare con il peccato presente chi opera il peccato è slavo del peccato e il peccato viene dal marino il marino è addentallato al peccato dell'uomo per cui eliminare il peccato del penitente per cui illuminare il fratello che viene sul peccato dire ciò che è peccato e ciò che è un peccato e indurre il paziente a dolersi del peccato e a chiedere perdono a Dio senza perdono chiesto a Dio non si può operare per cui non si possono fare preghiere di liberazione più che il peccato mortale se non è un caso eccezionale quando la persona è legata allora chiede al Signore di legare la mente il cuore del paziente perché possa avere orrore del peccato e detestarlo ma comunque il primo obbice che si fa guardanti i nostri occhi è allontanare il peccato sganciare il paziente dal peccato induire l'orrore il peccato la volontà di allontanarsi dal peccato perché quello sarebbe un obbice alla liberazione sarebbe un aggancio che il nemico ha per cui non se ne andrà mai finché finché c'è il peccato il nemico con tutte le preghie di liberazione che noi facciamo non se ne andrà e per il peccato abbiamo la volontà che adorisce al peccato non tanto la decisione cattiva non tanto il colpo del peccato di vita e la paura che si è insediato nella persona che ritratamente attraverso le trasversioni ha maturato questo colpo di peccato tanto la volontà di sganciarsi dal peccato perché bisogna che noi sganciamo il paziente dalla volontà dalla volontà dal peccato per questo di illuminare il paziente il nullo dell'ordine del peccato ed eventualmente per esempio il proprietario di confessarsi comunque primo punto è non operare finché c'è adesione al peccato volontà di continuare a peccato volontà di rimanere in quella situazione di peccato in questo caso si pregherà perché maturi nel paziente la volontà di sganciarsi dal peccato e la forza di sganciarsi dal peccato ma inizialmente ci vuole essere questa disposizione del paziente di volessi sganciare la peccato secondo punto lascio dare prima di iniziare che il paziente chiede perdono dei peccati altruvisto cioè dia il perdono a chi gli ha fatto il male perché finché c'è il risentimento l'azio il rancore contro chi gli ha fatto del male finché non c'è il perdono del peccato altrui allora questo non perdono del peccato altrui è un ostacolo intromontabile per cui perdona Dio del proprio peccato perdono proprio del peccato degli altri che hanno messo una fattura una bevatura oppure hanno presso oppure hanno creato quella condizione in cui il paziente si trova il peccato che hanno commesso i genitori che hanno commesso i fratelli e le sorelle gli amici i parenti i maghi i pattugieri chiunque sia mettere il perdono del peccato altrui in modo da sganciare dal vestito del nemico il paziente questi sono due agganci il legamento al proprio peccato e il legamento al non perdone se noi non rompiamo questi due lacci del nemico questi due intiti del nemico noi non possiamo operare e poi tutta la preparazione che bisogna fare del progetto però a me premeva raperire l'individizio qual è la disposizione di chi è in questo ministero che si mette operare e di chi deve essere oggetto della nostra attività ministeriale nella preghiera di liberazione e per questo andiamo a identificare che cose noi intendiamo fare esercitando il ministero di liberazione vi dico subito che che contrariamente a quanto si dice se bene il consiglio è sempre utile in questo libro noi possiamo intervenire in tutti i casi col ministero di liberazione sempre rimanendo negli ambiti della preghiera di liberazione possiamo intervenire nella tentazione diabolica un fratello una sorella o un gruppo stesso è nella tentazione l'origine diabolica ma allora non possiamo intervenire possiamo intervenire nell'oppressione sia nell'oppressione personale sia nell'oppressione locale possiamo intervenire in tutte quelle altre forme in cui il nemico ci tenta o che ci ci molesta perciò possiamo intervenire nell'infezione interiore soprattutto nelle respazioni che noi riceviamo nelle persecuzioni del nemico questo si vede in questo intervento nelle persecuzioni del nemico dire che ci persegono o nella carne o nella malattia o nelle spiriti morti oppure negli affetti oppure negli avere di tutto e allora nelle persecuzioni possiamo intervenire possiamo intervenire anche nelle infestazioni del nemico che si tratta di legame per sciogliere sia che si tratta di intenzioni più profonde quando è attaccata alla memoria o attaccata all'immaginazione è attaccata un po' la volontà e l'opportunità possiamo intervenire anche nell'ossessione quando c'è il nemico è entrato dentro e assedia l'uomo possiamo intervenire anche nella possessione diabolica che in quella parziale che in quella totale non c'è un limite al nostro intervento perché noi siamo nell'ambito della preghiera di liberazione qual è questo ambito di preghiera la preghiera di liberazione è preghiera fatta a Dio fatta a Dio col potere di Cristo Gesù nello Spirito Santo perché Dio intervenga con la sua potenza a liberare il nostro fratello o un gruppo di fratelli o una famiglia o una nazione intera o l'orbe terraffi intero dalla potenza degli nemici so che alcuni vanno anche ad operare sugli scogli che guardano il mare del Bermuda dove succedono tanti catastrofi che fanno preghiera di liberazione comunque possiamo intervenire dovunque in tutti i casi purché noi con preghiera di liberazione e soltanto preghiera non è mai uno scontro diretto col maligno mai al maligno ci deve pensare Gesù presente in noi ci deve pensare come lo spirito presente in noi ma noi come noi soltanto dobbiamo pregare quella preghiera passa bene sconfiggerà il nemico come Amaret ricordatevi Mosè che prega la montagna la montagna che Gesù è e altri Mosè prega con la preghiera configlia il nemico la potenza della preghiera che è come la spada che sconfiggi il nemico trafiggi il nemico come detto come detto nell'apocalisse egli sconfiggi il nemico spada gladio eris sui cioè con la tua spada dalla tua bocca la nostra spada è appunto la preghiera che ne vogliamo Dio Gesù come se lo farà un Dio non lo sovienta nella preghiera che lo vediamo comunque la preghiera tutte le scritture ci danno tanti esempi di preghiera che scompaggiano il nemico senza tanti di Dio che nascono il nemico che nacca di Dio tanti esempi meravigliosi sono esempi per noi che attraverso la preghiera per noi possiamo convincere il nemico allora è una preghiera data a Dio non ci sono scongiure non ci sono imbettive non ci a bordo oltre che fatano gli spiriti di livello ma in preghiera fatta a Dio perché Dio intervenga nel liberare il nostro fratello la nostra sorella il gruppo la famiglia una nazione intera perché l'ambito cioè di destinatari del nostro ministero non è il singolo soltanto ma tutto il mondo che noi bisogna liberare perché siamo così insieme con Cristo liberatore che dobbiamo liberare il mondo barbarino quest'ansia questo spirito cioè diciamo questo spirito di liberazione deve riempire il cuore nostro e devonimare tutti i nostri militari il ministere nostro si il creatore si innesta nella pastorale per gli apprezzati io ho fatto per tre anni per tre anni due primi pecerdoti erano le primi pecerdoti un corso di tre vecchimente ogni anno sono pastorato degli apprezzati con ottimi risultati e c'è la terra ogni città medica che venivano così nelle montine di sacerdoti per me e con altri lanci che erano del ministero di liberazione poi tracciavo delle linee operative per compiere bene questo ministero per gli anni interi è fatto questo per cui è un ministero che va coltivato e che va sempre aggiornato perché dobbiamo essere dotti nelle manovre del maligno e dico aggiornato perché la situazione cambiano di giorno in giorno ciò che era preeminente ieri invece è passa quasi l'importanza per dare nuovo a ciò che è preeminente oggi oggi i casi più che vengono a noi sono i casi di maledizia ma soprattutto il spiritismo pratica magica per spettamente affetto tutti i catalici e allora dobbiamo noi essere pronti a venire incontro a tutte queste pratiche esoteriche per dare la liberazione per sciogliere per bonificare il terreno e poi tante altre tanti altri spiriti e stilitelli che attraverso il discernimento noi così scorgiamo presente nelle famiglie nei ultimi nostri dobbiamo chiedere piuttosto al signore nostro discernimento per sapere quali spiriti operano e contro quali spiriti noi dobbiamo lottare nella preghiera e allora vediamo come può essere ordinata una preghiera di liberazione per quali passi bisogna fare perché questo ministero sia ben condotto e dà i suoi effetti di il padre Amor che persista che mi pare come spesso manda ai gruppi di rinnovamento le persone perché si faccia mandare una preghiera di liberazione prima di il centro dell'esorcismo una preghiera di liberazione come accompagnamento dopo l'esorcismo e gli stessi dice che i nostri gruppi sono benedetti da Dio e perciò gli effetti nella preghiera di liberazione si notano subito quando noi esorcisti facciamo esorcismo siamo un valido aiuto agli educisti con la preghiera di liberazione ecco perché è un ministero che rientra nella postura di di parla della carità ma non c'è una postura specifica per gli oppresti si demanda tutta la postura e nel poco mentre noi copriamo il luogo questo luogo la pastorale con la preghiera di liberazione però i nostri gruppi devono formare dell'equip valide perché se non c'è un'equip valida facciamo più danno che meno per cui persone valide non tanto eminenti quante persone umili che sappiano pregare che abbiano i carismi quali carismi carismi di umiltà profonda di misericordia profonda di intercessione che capire tirare l'arco col cuore di Dio colpire il cuore di Dio se noi abbiamo tiratori d'arco non possiamo fare nulla io vanno cercando cercando nei gruppi i tiratori d'arco non tanto i profeti non tanto quelli che hanno autorità che hanno anche il carisma di liberazione quanti tiratori d'arco quelli che stanno a colpire il cuore di Dio e allora come si forma un equip e come deve procedere l'equip nel l'equip va formata con riscaldimento nell'equip è bene che ci siano tutti il carisma che è possibile però come vi dicevo carisma di preghiera di intercessione e persone che sappiano tirare bene l'acqua che fuori di Cristo il cuore di Dio se c'è un profeta tanto meglio perché una preghiera di liberazione accompagnata dalla profezia è autorissima se c'è il ministerio di autorità tanto meglio perché nei casi più grave previene l'autorità c'è un carisma dato da Dio il diavolo che c'è scappa via però anche che dovesse mancare il profeta anche che dovesse mancare il carisma di autorità se c'è un gruppo di misericordiosi che sa pregare che sa commuovere Dio che sa compatire pregare questo giusto è valido è chiaro che ci vogliono alle dode naturali una maturità cristiana oltre che una maturità umana equilibrio per non essere ingannati piedi saldi mani saldi cuore saldo perché siano suggestionabili oppure sui giri non siamo adatti a questo ministero c'è una certa diciamo freddezza cioè una freddezza intendo che non siamo subito così pronti ad esaltarci a vedere luce le bellanterne a vedere tutti che non sono ma soprattutto quello che bisogna è il discernimento perché il discernimento perché non possiamo in questa decisione procedere senza un sé discernimento che verrà fatto comunitariamente da uomini i quali sappiano l'asso del discernimento e possibilmente se qualcuno gli abbia il cariba del discernimento che il giusto della presenza del marino una data situazione che mi ha data l'interno questa è la composizione del gruppo che deve essere affiatato in comunione per creare la presenza di Cristo perché se non si verifica la presenza di Cristo se mettiamoci al terzo non bisogna operare perché siamo noi ad operare invece deve essere Cristo ad operare perché lui che è libero e anche il suo futuro di avere questo senso di libertà e di amore libertà nei messi riguardi di amore verso gli altri come procedere qui in questo libro c'è tutto il modo che viene indicato ma non necessariamente dovete seguire questo metodo la prima cosa da fare è evangelizzare quando tu dopo l'accoglienza si vuole l'accoglienza del paziente oppure l'accoglienza della comunità l'accoglienza di una famiglia cioè di colore che debbano essere così aiutati con preghiera di liberazione è bene che ci sia dopo questa accoglienza che deve essere gioiosa umana è necessario che noi procediamo dopo l'accoglienza alla evangelizzazione cioè mostrare di questo presentare Gesù in modo da stabilire un contatto quasi visivo con Gesù che è presente invisibilmente in mezzo a noi per cui presentare Gesù attraverso la lettura di qualche plano del evangelio ma attraverso un piccolo discorso breve in modo da stabilire un certo contatto con il vero liberatore che è Gesù dopo l'evangelizzazione allora sollecitare la preparazione del paziente e si incontra con Gesù misericordioso e presente perché sia lui liberati da questo fastidio che fa tanto sorrire e qui c'è il colloquio colloquio che prese la parte da uno da tutto il cielo o soltanto da noi perché dal colloquio che dipende tutto il resto da noi vengono tante tante persone dal colloquio noi comprendiamo se quella persona ha bisogno di preghiere di liberazione di preghiere di guarigione interiore di preghiere di guarigione fisica di preghiere di consolazione per cui dopo questo primo discernimento se si tratta di consolare la persona la consoliamo e la parliamo se si tratta di fare una preghiera di guarigione interiore facciamo una breve preghiera e parliamo se c'è bisogno di un consiglio di un consiglio e lo mandiamo se soltanto facciamo preghiera di liberazione quando assodiamo che quella persona ha bisogno di una preghiera di liberazione chiaro tutto questo non fare preghiera di liberazione altre preghiera collettive altre preghiera individuale preghiera di liberazione su chi non ha bisogno di liberazione per cui si chiamano la mente del popolo capitato che c'è un diavolo quando per esempio il diavolo non c'è che ha delle turbe diaboliche quando sono semplici turbe per chi si è possiamo demandarlo al medico possiamo demandarlo a confezione ma limitare il nostro intervento personale sulle persone che hanno bisogno di liberazione ma possiamo fare preghiera di controlazione preghiera di una regione interiore breve e riserviamo il tempo nostro che prezioso della preghiera di liberazione preghiera di liberazione e allora davanti a una persona noi dobbiamo fare il discernimento il discernimento non è facile dobbiamo saper distinguere se la persona è tentata si è caduta in tentazione si è nel laccio in uno dei sessantadun lacci del nemico di cui non parlava salvatore li abbiamo elencati dopo tanto studio le insidie del nemico e allora pregare perché il signore liberi il fratello la sorella da questa insidia da questa trappola da questo tranello in cui è caduta poi si possono andare a dei casi in cui c'è un maleficio in cui c'è soltanto un'oppressione del nemico c'è una frastornazione del nemico per cui è seminato caso per caso per vedere se quella persona è infetta qual è il suo grado di infezione si ha una ferita maligna si ha un legame occulto di origine diabolica una dipendenza di droga una dipendenza di aborto quattro una dipendenza di stupo quattro oppure un legame con maghi pattuchieri pratiche magiche spiritismo tutte queste arti mantiche producono in genere dei legami si ha un legame per poter procedere alla liberazione del legame se quella persona invece è infetta c'è un'infestazione nella persona cioè il maligno è penetrato perché l'infestazione ha diversi gradi qui nel libro ha detto che bisogna essere attenti a delle costanti c'è una costante nell'infestazione c'è uno spirito di paura provoca la presenza di altri spiriti uno spirito di lussuria comporta presenza di altri spiriti uno spirito di odio comporta presenza di altri spiriti c'è il richiamo di altri spiriti avrete il discernimento degli spiriti operanti in quel momento in quella persona ci sono delle costanti così così anche un altro costante è l'avvicendamento degli spiriti in una persona infestata c'è sempre una progressione perché il diavolo vuole distruggere vuole attaccare la fede la speranza la carità distruggere c'è l'uomo interiore distruggere le immagini di Dio disgregare la persona a questo tende il marino poi fare ancora l'indagine se ci fanno di fronte a un maleficio l'indagine è più difficile comunque poi quali sono i segni delle presenze del marino nelle infezioni semplici sia attaccato alla testa sia attaccato allo stomaco i segni fisici poi se c'è ossessione se c'è possessione perché possiamo intervenire in tutti i casi sempre con la preghiera quali sono i segni del maleficio quali sono i segni dell'ossessione quali sono i segni della possessione in modo che noi possiamo con conoscenze di causa procedere sempre nella preghiera tanto per cominciare negli casi più negli ultimi casi ci fermiamo molto come ci si accorge che una persona è posseduta dal marino ci sono i segni diciamo psichici metapsichici spirituali e fisici che possono anche mancare per cui si metteva l'ultimo per cui bisogna essere a conoscenza dei segni psichici dei segni metapsichici dei segni spirituali per poter procedere dire questo è posseduto possiamo fare una preghiera a Dio perché lo liberi e rimandare il paziente all'esorcista perché ha bisogno di esorcismo però non perché ha bisogno di esorcismo dobbiamo negare la nostra preghiera perché tante volte è successo che attraverso la preghiera di liberazione i diavoli sono andati senza bisogno di esorcismo però normalmente quando c'è una possessione facciamo una semplice preghiera a Dio se abbiamo il carisma di liberazione il Signore cacciare via il diavolo prima che intervenga l'esorcista comunque conosce i segni qui è interessante il discernimento conoscere gli spiriti avere la conoscenza degli spiriti qui dobbiamo dire che attraverso alcuni segni esterni possiamo pensare quali spiriti sono in attività a quale livello operano a meno che non abbiamo la ironiosi negativa cioè questo dono che avevano alcuni santi e che è nell'opera dei carismi la conoscenza degli spiriti ricordate Paolo quando c'era quella donna che era affetta dallo spirito di Zipitone esercitava l'arte divinatoria tutti avrebbero detto ma quella era una donna che era mosso dallo spirito di Dio perché accreditava Paolo diceva a tutti ascoltate questi uomini ascoltate Paolo perché è portatore di verità portatore di Gesù dice Paolo se è una cosa avete scena in mente degli spiriti disse va via e la liberò come Gesù aveva disse di me degli spiriti che aveva bisogno beato te Simone figlio di Giona e poi ah si accorse subito Gesù che prima il padre era lui che aveva rivelato ma subito dopo era lo spirito cattivo che era l'orecchio e al cuore di Pietro per cui se abbiamo questo dono della igregnosa negativa bene il Signore ci aiuterà se abbiamo un profeta che ci aiuta perché tante liberazioni quando sono accompagnate da un profeta sono molto più facili come è l'esperienza mia perché il profeta ci dice cioè è il Signore che parla ci deve mattare punto fate questo fate questo fate quest'altro attraverso il profetico altrimenti dobbiamo nella preghiera discernere il Signore è luce lo Spirito Santo è luce abbiamo bisogno di carismi particolari ma il Signore ci guida nel nostro cammino e di scegliere attraverso i segni quali segni cioè i segni segni esterni segni esterni vedere quale preghiera fare per liberare quella persona quella persona qui io vorrei un poco e che tempo che tempo abbiamo no 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 cominciamo con i segni con i segni vediamo qualche cosa diciamo poi lascio libero voi di interrogare perché forse è meglio fare così perché è il metodo che si usava con i sabbini e si usava al tempo di Gesù i discepoli che interrogavano e il maestro che spiegava cominciamo con i segni di di un'infezione del maligno semplice i segni fisici sono soprattutto dei malefici così è un maleficio subito abbiamo detto ma dobbiamo integrare quando è attaccata la testa e lo stomaco segni fisici cos'è un maleficio così subito e spieghiamo il maleficio è un intervento del maligno il maleficio malefico diciamo non il maleficio semplice perché tanti malefici cosiddetti tante fatture sono imbroglie di maghi e fattucchiere che guadagno denaro e non sanno neanche confezionare una fattura ma la sanno va perché per confessionare una fattura ci vuole arte arte umana e arte diabolica e allora il 90% delle fatture sono a fasulle perché non sono state fatte bene e non arrivano queste devono essere di consolazione ma il 10% possono essere fatture vere come opera il mago che fa la fattura opera attraverso i due principi della omeopatia e dell'analogia e cioè il simile il simile opera sul simile e la parte opera sul tutto io voglio nuocere una persona e allora nel maleficio diretto maleficio diretto io lancio una un'invettiva contro una persona maleficio diretto invece nel beneficio indiretto attraverso la fattura io prendo un uglia della persona un capello di una persona una parte della persona e opera su quella su quella parte carico quella parte della persona perché ciò che è fatto sulla su una parte è fatto su tutto questo è un test di intervento del marigno questa fattura diventa test cioè il marigno attraverso questa parte opera su tutta la persona e generalmente attacca la persona nella testa nello stomaco o in altre parti secondo il volere del mago la richiesta del mago o la malignità dello spirito cattivo oppure c'è l'analogia l'analogia si prende la fotografia si prende la fotografia della persona si trafigge con spigli si va bene quella fotografia e allora c'è o il sottornamento per dire putrefazione della persona c'è così sono tanti tanti metodi per nuocere la persona noi ce ne accorgiamo come ce ne accorgiamo dagli effetti che vengono prodotti nella persona maleficiata gli effetti di un maleficio o di una fattura sono effetti fisici soprattutto perché se nuocere alla salute agli affetti o agli avere per cui abbiamo una un maleficio amatorio un beneficio benefico un maleficio diabolico sono tre spese di maleficio amatorio benefico diabolico e allora scorgiamo un poco dai segni ciò che avviene nella persona se la persona come dice diabolico sente ribellione a Dio sente disturbo nella preghiera si sente disturbata nella sua relazione con Dio e con il prossimo diventa astiosa un uomo con la moglie con i figli comincia a diventare strano non si sa spiegare perché quello è un maleficio diabolico probabilmente di origine diabolica se uno ha male in salute benefico comincia a sentirsi male va dal medico il medico non riscontra niente tac l'assonanza magnetica non si scopre niente ma la persona soffre ugualmente per esempio ha preso sangue mestruale e così l'ha lavorato l'ha data a bere vuole allacciare una persona con l'altra o vuole dividere l'uomo dalla donna marito dalla moglie ci sono tanti metodi allora noi ce ne accorgiamo dagli effetti che vengono prodotti in una persona mare di stomaco non poter riposare la notte avere sempre crampi non potessi spiegare il malessere oppure gli averi cioè abbiamo disastri finanziari un'azienda che andava bene improvvisamente va male una unione coniugale eccellente subito va male il marito non sente più niente per la moglie la moglie niente per il marito si scontrano si dividono non la vogliono più sentire l'un e l'altro così l'improvviso si può ipotizzare un maledizio ipotizzare perché la certezza non si è mai eserzata una preghiera di liberazione mirata la guarigione o la rivoluzione da manifisi era più difficile dice padre Amor che il 80% delle persone che vengono per chiedere esorcismi sono tutte manifiate per cui è il caso più comune poi io sempre dico che il 90% 80% delle fatture fatte con la basura soltanto le fatture ben fatte con arte con l'invocazione del marigno con la carica del marigno con la presenza del marigno con l'invocazione del marigno quelle sono operanti sono operanti e sono di difficile liberazione io ho trovato molta difficoltà nel liberare da malefici così malefici diabolici soprattutto da malefici benefici da fatture morte perché sono sono state maleficiate ma così con potenza dal nemico e allora e qualcuno di segni da cui dobbiamo conoscere se quella persona ha bisogno di un liberazione da un beneficio da una fattura liberazione dal maleficio liberazione da una maledizione o personale o familiare o generazionale mettiamo adesso un caso di possessione non possiamo andare a tutti i casi quasi di possessione quali sono i casi cioè i segni classici il rituale romano dà dei segni ma non sono tutti validi abbiamo bisogno che tutti i segni siano presenti primo segno è di ordine psichico cioè si opera una trasformazione una novità nell'uomo che prima non c'era la sfera psicologica inattaccata delirio ossia sono quei segni che si possono confondere con segni clinici di malattia psicastremia paranoia isverismo schizofrenia oppure con segni del paranormale per esempio la cinese telecinese oppure la psicometria telepsicometria sono tutti segni psichici che però troviamo anche nelle malattie psicologiche nella malattia di dominio del psichiatra oppure troviamo nel paranormale qui allora bisogna stare attenti a avere l'intelligenza di distinguere se quel segno è di dominio del medico se è un segno semplice a paranormalità oppure se è un segno di una presenza del maligno perché nella possessione il maligno che si è insediato nel corpo della persona non stabilmente perché la possessione stabile non ce ne sono ma opera attraverso il corpo della persona poi ci sono i segni metapsiclici che va al di là della psiche e noi ce ne accorgiamo segni strani segni strani se tu per esempio la vede se c'è un esempio quando la beata Maria del crocifisso che sette tre anni in possesso del maligno di beata venne esorcizzata il povero esorcista se la vedeva sparire davanti vedere sul tetto e ecco il diavolo la beata sul tetto oppure la vedeva arrampicare nei muri e mettersi così sul tetto dalla stanza oppure sul tetto del riuvetto questi sono segni meravolanti oppure quando le persone tercita una forza di energumini una forza enorme quando 4-5 persone non riescono a tenerla ed è una bambina per esempio e una donna non riescono a tenerla allora sono dei segni metapsiclici un segno metapsiclico è parlare correntemente una lingua bene per esempio una persona che non sa niente comincia a parlare arrangesi inglese giapponese una lingua conosciuta come si può spiegare oppure quando una persona analfabeta nel colloquio che si intavola con la persona comincia a parlare del misterio trinitario comincia a parlare di cose di dottrina che quella povera donna quel pover uomo non sa non posa cioè una cognizione una cognizione straordinaria che denota la presenza di un'intelligenza diversa nella persona oppure una cognizione di cose occulte dice quella cosa quella cosa oppure di un fatto passato che tu hai dimenticato o di un fatto presente che tu resti così allibito come lo sa ossia la cognizione allora questi segni metapsichici ti danno pensiero e tu ipotizzi la presenza del maligno poi i segni spirituali sono tre tutti i testi ne portano uno e ne porto tre e allora l'avversione al sacro cioè si sente male entrando in chiesa bisogna stare attenti per distinguere bene questo segno perché tante persone si sentono male entrando in chiesa e non sono possedute però sono oppresse dal maligno sono tentate dal maligno ma non sono possedute comunque avversione al sacro oppure io metto un crocefisso a dieci alle spalle senza che nessuno se ne accorga e il paziente va in escandescenza oppure c'è qualcosa di sacro mettiamo io porto il Gesù sacramentato nella teca subito quello sfugge e dice cosa hai nel petto cosa porti ecco è l'avversione al sacro è uno dei segni ma c'è segno spirituale e la vocazione al male perché il diavolo perverte la mente perverte il cuore è maligno e opera un processo di demonizzazione io insisto tanto parlando con gli altri esorcisti colleghi come c'è un processo di cristificazione ad opera dello spirito santo c'è un processo di demonizzazione ad opera dello spirito cattivo quando è in una persona lo spirito cattivo ha la vocazione al male incomincia a pervertire la mente inducendo la persona ad ingannare a dire la menzogna a pervertirsi mentalmente c'è una perversione morale nei costumi l'odio l'astio il rancore il volere il male della persona oppure depravazioni morali che esulano non è l'ordinario dalle depravazioni diciamo ordinarie questa vocazione al male già è un segno di una presenza del maligno in una persona e così altri segni che gnomici cioè così gnomici cioè la fisionomia dalla persona nel posseduto cambia non sempre però per cui chi ha l'occhio clinico come il medico si accorge ma quello è posseduto quello è disturbato perché prende una fisionomia tutta particolare un indemoniato vero si vede a colpo l'occhio del fisico c'è il volto dell'indemoniato non sempre però perché tante volte mi è capitato di incontrare indemoniati perfetti e questo è il caso più difficile cioè un uomo una donna una donna gentilissima parria buona non la recepire oppure un uomo un ingegnere non ve la dire però al primo approccio ecco emerge l'altro che è dentro che è